Buongiorno a tutti e benvenuti nell'ottava giornata di campionato della Serie A femminile CSI. Io sono Giada e vi accompagnerò nella telecronaca della partita. Purtroppo per dei problemi tecnici abbiamo registrato solo il secondo tempo. Comunque, la squadra luinese è scesa in campo con Amalfi tra i pali, Vaghi, Belluco, Mancuso, Consonni, De Luca e Broido. A disposizione Polato, Lanza, Sartorio e Rago. Il primo tempo ha visto uno splendido Luino portarsi in vantaggio poco dopo il calcio d'inizio, grazie a una discesa collettiva di De Luca e Consonni, con la finalizzazione da fuori area di quest'ultima. Poco dopo è Broido a raddoppiare, dopo un'azione personale e cross di Mancuso che l'attaccante luinese deve solo appoggiare di testa in porta. Il legnano però recupera il punteggio e il primo tempo finisce 2-2. Negli spogliatoi viene effettuato il cambio, Sartorio per Broido. Si riscende in campo, ora godetevi il secondo tempo. Vaghi da calcio d'inizio, ci prova ma il portiere ci arriva. Ancora Vaghi che si smarca, prova il tiro da fuori area ed è gol, le ladies tornano in vantaggio. Il legnano prova a impensierire Amalfi dalla propria metà campo, ma sbaglia completamente angolazione. Consonni conquista una punizione, si prepara Vaghi che trova sulla traiettoria un difensore, palla recuperata da Belluco che però non riesce a trovare lo specchio della porta. Rinvio dal fondo, intercettata da De Luca che va su Consonni, Consonni di tacco per Vaghi che prova il tiro ma il difensore va in scivolata e la sfera finisce sopra la traversa. Sarà di nuovo rinvio dal fondo. Amalfi si improvvisa assist man. Consonni calcia il volo e spedisce la palla in rete, un gol strepitoso, segna il 4-2 per le ladies. Il legnano tenta il tiro da calcio d'inizio ma non va. Amalfi dal fondo, intercettata dal legnano che tira da fuori area ed è rete, un euro-goal che firma il 4-3. Di nuovo Vaghi da calcio d'inizio ma il portiere ci arriva. La panchina luminese effettua il cambio. Entra Rago per Mancuso che viene ripreso dall'arbitro per la perdita di tempo. L'attaccante protesta e viene ammonita. Subito dopo un altro cambio. Entra Lanza per De Luca. Rimessa laterale per il Luino. Sartorio alla battuta che trova la numero 4 del legnano. Colpo di testa ed è auto-goal. Siamo 5-3 per le ladies. Il legnano prova nuovamente da calcio d'inizio ma trova Amalfi. Altro cambio per il Luino, esce con Sonni e rientra Broido. Rinvio di Amalfi che trova Vaghi di testa su Broido che si smarca, prova un tiro al limite dell'area ma il portiere ci arriva. Ancora Amalfi che trova Broido. Allunga per Lanza che prova il tiro, intercettato dal difensore che spazza la palla oltre la metà campo e poi fuori. Rimessa laterale. Ancora rimessa laterale per le legnanesi, che però trovano Broido in scivolata per Lanza che prova il tiro da fuori area e spedisce la sfera appena sopra la traversa. Amalfi per Lanza. Lanza allunga per Broido che va su Belluco ma la palla esce sul fondo. Triplice fischio. Tutte sotto la doccia. La partita termina 5-3 per il Luino. Una buona performance delle ladies che fa ancora vedere il cuore e la forza di questo gruppo. Ci vediamo sabato prossimo per la sfida Verbagna contro il Verbagna femminile. Dalla vostra inviata sul campo è tutto. Grazie e a presto.